Forse non tutti sanno che la carriera di Benedetta Rossi inizialmente non prevedeva nessun tipo di fornello o deliziosa pietanza. Già perché si laureò agli inizi del nuovo millennio in produzione e sanità degli organismi acquatici all'Università Politecnica delle Marche. Marco e Benedetta si conoscevano da parecchi anni, molto tempo prima che lei diventasse famosa per le sue ricette. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire i dettagli di questa notizia, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Lei, nonostante la sua voglia di autonomia, ricopriva per il suo agriturismo la carica di imprenditrice agricola, continuando a produrre sempre insieme al marito prodotti detergenti. Parallelamente alla vendita online dei suoi prodotti, a tempo perso, postava nella rete qualche piccola ricetta da fare in poco tempo. Queste ultime ebbero talmente grande successo che il ragazzo che le gestiva il sito le consigliò di registrarne il dominio. Da quel momento in poi, i due lasciarono la gestione dell'agriturismo per dedicarsi interamente alla produzione di queste semplici ricette, che però avevano tanto successo. Così è arrivato il successo per la coppia. Ora lei è una cuoca conosciuta in tutta Italia, mentre il marito Marco è sempre lì, dietro le quinte, a sostenerla, non soltanto moralmente, ma anche con un aiuto concreto. Perché la coppia non ha figli, rimane ancora un mistero. I due innamorati non si sono mai espressi a tal proposito, e non sembra che abbiano intenzione di farlo. Da voci circolate sul web, sembra che Benedetta non possa avere figli. Una terribile notizia per chi ha il senso materno e vuole una famiglia. Intanto, per soppirire a questa mancanza, sempre che ne soffrano di questa privazione, hanno adottato un bellissimo cane di nome Cloud. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto. Grazie per aver guardato il video.